Musica 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 Buongiorno e benvenuti in questo primo Vlogmas Io stamattina, cioè stanotte, mi sono svegliata la prima volta alle 3 con un fortissimo mal di gola che mi ha attaccato Gabriele ma ieri sono uscita così per andare a prendere le bambine perché c'era l'idraulico e ho perso la condizione del tempo quindi sono corsa fuori così e stamattina ho avuto una bella sorpresa e niente adesso quindi diciamo che probabilmente oggi sarà un video dove magari più che altro vedete e parlo poco perché appunto mi fa male la gola infatti mi sono messa la sciarpa e penso proprio la terrò tutto il giorno adesso vado a farmi un bel tè caldo e niente e poi inizio a fare i lavori intanto dobbiamo, perché sono in ritardo, rassembrare il calendario dell'avventura dei bambini intanto appunto con la scusa che oggi andavano ancora a scuola ho ancora un pochettino di tempo perché tanto apriranno i regali il giorno, cioè quando arriva Maurizio quindi finché non arriva Maurizio diciamo che siamo, sono tranquilla insomma e invece per quanto riguarda i miei adesso magari vediamo, comunque aspetto magari che arrivano le bambine perché erano felici di vedere cosa c'era dentro il calendario perciò volevo aprirli di mattina quando ero da sola però visto che loro sono così contente non vedono l'ora anche l'ora di aprire il calendario soprattutto di vero se allora lo facciamo assieme ci aspetto che arrivano anche loro e niente quindi magari ci vediamo poi più tardi se magari la gola migliora 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 Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Non si vede, state tranquillo Allora, cinque, quattro, tre, due, uno No, devi fare piano, lì c'è il buchetto Guarda che mi fanno lì All'edità troppo grande, sono pure questi calendari dell'avvento Vediamo un po' che pochettetto c'è oggi Papà l'ha svegliato Aspetta che non si vede Che c'è Che c'è, che c'è Goku, è Goku È Goku Vedi, invece con questi puoi vedere bene Uno, due, tre, quattro, cinque, sieil, sette Otto, nove, dieci, dischi, 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 dissi, dischi, 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 dischi. Adesso non è lut чтобы Trova cardero Guardate Ma non ti vede delle cose Wow, è bellissimo La luce in questa casa, il primo è Goku, che sta lanciando un'onda energetica, state tutti molto attenti. Ma guarda che troppo carino. Adesso prendiamo le bustine del calendario che gli ho fatto io e papà. Non sciancarle così tante. Non sciancarle così tante. Non sciancarle così tante. Ma non è nemmeno sbagli. Ma cos'è? Io poi lo sapevo già. Perché non me l'avevo ordinato una volta la serie. Mamma cos'è? Un'lucida labbia, un litro gel. Mi sembrava un smalto. Guarda! Cos'è quella roba? Le cuffie finalmente! Anche io! Gabriele, non è colpa mia. Guarda, sono arrivati oggi. Devi accontentarti dei regali che avevo già in casa. Sei chiaristica, che puoi attaccare dove vuoi. Sui quaderni, sul tuo diario. Visto che c'è quello lì della scuola puoi farlo più bello. Ce li posto di cacola. Vabbè, vabbè. È bellissimo. Mamma! Ce ne sono tanti sulla cover. Porta cali dove vuoi. Ce ne sono tanti, eh. Cosa sono? 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 400 euro. Guarda, sono bellissimi. Cosa sono? Cosa sono? Cosa sono? Cosa sono? Adesso? No, certo. Sì! Adesso? Cosa sono? Mamma, però chi ha la casellina? È uguale. Sto guardando, mamma. Fate più insieme. Questo qui è il calendario per Sabrina e per Giada. Adesso aprono. Siamo contenti. Certo che potevano anche ritare. Sto a un parco di troppo. Dai. Tiralo così fai vedere anche a loro dov'è la 1. La 1 è qua. Tiralo. Tanto si vede tutto. Mamma, le picche sono tutti bellissimi. Un po' più in qua. Ok, non vedo io dove è lui. Ah, ok. Dai. La prendiamo insieme. Su, spacchiamo. Ecco. Ma perché c'è un'altra plastica? No, va bene. Quante plastiche ci sono? Mamma, c'è un'altra di plastica. C'è un'altra plastica. Quello lì, quello lì dove attacchi. Ma è vero? Ma quante plastiche ci sono? Un po' più. Un po' più. Un po' più. Un po' più. Quattro. Bravo. Mamma, per forza perché il foglio è qui. E' qua è la di carta. E' la di carta? Si può provare? Ah. Vabbè comunque è questo e certo. Cosa è per il caffè? Cosa è per il caffè? C'è un po' più un orecchio E si comanda Che bello Mamma ho cambiato le cose Cosa c'è? Ci sono due molette per i capelli Ma non c'hanno solo i quattro A forma di stella Ok Qua c'è due Mi piace? Si E per ultimo c'è questo calendario Del tè Che è così Il tè biologico Si apre qua Ma no perchè Questa è la copertura No? Poi dentro E' fatto così Praticamente come era lì E poi dentro è fatto così Qua E' bello che non sono messe tutte Tipo qua 1,2,3,4,5,6 E ma sono sparse Così uno la deve cercare Qua c'è l'uno Vediamo che c'è Già che è rosso Già non mi piace Tutti rossi Non lo so devo aprirlo perchè non c'è scritto niente Sono tutti rossi Qua c'è ma non si capisce Ah già ha ragione Giada Ha ragione Giada La confezione è di tutti rossa Quindi dobbiamo aprirlo per forza Per vedere com'è dentro E' questo E' questo Ma cosa me lo devo inventare? Ma non c'è scritto Ma non puoi lo usare Chi lo vuole questo? Boh Devi assaggiarlo Ah ecco Questo qui Brava Brava Sabrina Meno male che ci sono loro Se no sarei persa Chi lo vuole questo? Questo qui è questo Che è Citron Gingembre Confit C'è Tè bianco Dessin Ma perchè non scrivo in italiano? Vorrei sapere perchè non scrivo in italiano Vabbè comunque è questo qui Citron e limone Si Quindi è al limone Benissimo Adesso proviamo a farlo Ma guarda Mamma mia me l'ha dato perchè non è piatto Adesso proviamo a farlo E poi vi faccio sapere se è venuto buono Anche se Giada continua a fare cose che non dovrebbe fare E ci vediamo dopo Oggi ci sono arrivate delle cose che abbiamo preso da Shin Io lo chiamo sempre chiamo No si dice Shin No allora Shin non è essa Allora questa qui l'ha presa Giorgia per la sua amica Nicole come regalo di compleanno di Natale Giorgia Poi Giorgia si è voluta prendere questi orecchini Giorgia si è voluta prendere questi orecchini così Arcobaleno Sia la cintura che gli orecchini sono veramente molto carini Poi qui non ve le faccio vedere tanto bene Ma c'è una decorazione per Natale Qui c'è la cover che si è presa Giorgia ecco Sempre così con la bandiera così arcobaleno dell'LGBT Poi qui abbiamo due cappellini per Pia Uno rosa e uno rosso Adesso li apro e ve li faccio vedere Basta Oh ciao che bellina Vuoi vederti tu aspetta Ma che bella Non sei l'unica visto che ce l'ho Che bella Poi ho preso questi ulteriori stampini per biscotti ma anche per la pasta di zucchero Che però io non uso ma vabbè Per fare appunto i biscotti o per fare le sagomine di pasta di zucchero Adesso le apro bene e vi faccio vedere No non sono tempo No non sono tempo Che schifo Ma per petto allora Allora No sei finiti tutti i biscotti Assaggio il tè che abbiamo trovato Dio 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 Secondo me non so di niente Lo so di zucchero 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 Un po' sa di limone ma molto poco Non lo so Sa molto poco di limone Sì Domani riproviamo Cioè proviamo con l'altra Vediamo se viene meglio Comunque è buono Niente male Ma no Adesso io preparo la cena Non ho idea di che cosa preparare Perché si è fatto tardi Ma devo fare qualcosa di veloce Perché Mauro ci deve mangiare Per poi andare a dormire Quindi io vi saluto qui Spero che questo primo vlogmas vi sia piaciuto Se è così lasciate un like E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas Ciao Ciao